Corriere dello Sport e si prepara a Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Sette punti dall'Inter significa già essersi arresi? Aspettavo una domanda cattiva da sua parte. Quindi io sto tra i cattivi e la cosa già... Da un po' di tempo sì, lei è sempre una domanda dove devo essere preparato perché è sempre offensiva, diciamo, la sua domanda. Questa è offensiva? Ah no, non lo so, siamo a pochi passi di tornare in vetta. Cioè, sette punti dall'Inter, io le chiedo, sette punti dall'Inter, lei è la legge offensiva? No, no, no. Ha detto lei, mica io. Non ho senso di offendere. No, come no? Ah no, no. Offensiva significa offensiva. Allora, io le chiedo in francese, voi le chiedete sempre delle questioni che sono negative. Faccio fatica a parlare l'italiano, mi credo. Però sono simpatico, eh? Non lo so, non lo conosco. Eh, lo dico io. Andiamo fuori. Allora, un'altra, per favore, grazie. Ma non mi ha risposto. E che devo rispondere? Perché visto che ho risposto male, ho capito male, forse. Allora, ripeto quello che avevo già detto, che siamo a un quarto del campionato. Quindi rimane tre quarti di campionato per tornare su, non sull'Inter, sulle squadre che sono davanti da noi. Ti sposto bene? Esatto. E' esatto. E' esatto. E' esatto.